Radio W0, Radio W0, suona ciò che ami, più suona e più l'ami Come ti combino nasce due anni fa, anzi è nata due anni fa, Come ti combino il matrimonio è stata inventata, diciamo che questa sitcom Come ti combino è nata per gioco con un'amica di Barletta Come ti combino il matrimonio la prima edizione è andata bene, quindi abbiamo deciso poi di fare la seconda Come ti combino, punto, con Barbara Biasi, una degli ex del Moodoo è andata benissimo e quindi abbiamo pensato di fare la terza serie che mi affiancherà in questa terza serie, Emanuele Tartanone anche lui ex del Moodoo e Cinzia Clemente di Altamura una brava attrice e una coreografa, sceneggiatrice, ballerina e quant'altro La seconda serie, Barbara Biasi, sappiamo tutti che è un'attrice quindi cast molto professionale, un cast completo anche le comparse si sono comportate molto bene quindi diciamo che a Come ti combino ci sono anche presentati persone, personaggi ripeto, mai stati davanti alle telecamere però Come ti combino dà l'opportunità e ha dato l'opportunità anche a tante persone di stare davanti alle telecamere e di andare anche in onda a livello televisivo sintonizzatevi da lunedì 8 maggio alle ore 13 tutte le due perché con Come ti combino ci sarà veramente tanto, 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 tanto da ridere perché io, Emanuele Tartanone e Cinzia Clemente veramente ne abbiamo fatte di tutti i colori vi consiglio di guardare questa sitcom perché vi divertirete tantissimo io vi saluto da parte mia, da parte di Emanuele Tartanone, da parte di Cinzia Clemente Ciao a tutti Farmi tutti quasi una rapina, sulle mani, su, sulle mani, su Sì, vabbè, farmi tutti, questa è una rapizia, ripetiti, semplice, la cosa più moderna, dai Oh, io sono classico Ti regalo questo soleone, perché io soleone, sì Radio Doppio Zero Radio Doppio Zero Suona ciò che ami, più suona e più la ami Radio Doppio Zero